Il diaframma, insieme ai tempi di otturazione, serve a regolare la quantità di luce che colpisce il sensore. È un'apertura variabile e tondeggiante, posta all'interno dell'ottica. I numeri che vedete scorrere sotto l'obiettivo indicano l'apertura. Si nota che a numero grande corrisponde un foro di diametro piccolo e viceversa. Che significato hanno questi numeri? Ogni obiettivo ha una sua lunghezza focale, cioè la distanza tra il centro ottico dell'obiettivo e il piano focale, dove è posto il sensore e si forma l'immagine. Il numero del diaframma esprime il rapporto fra lunghezza focale e diametro del diaframma. Un obiettivo con 50 mm di lunghezza focale all'apertura f4 ha un diaframma con diametro di 12,5 mm. Ogni salto di diaframma si chiama stop e permette di raddoppiare o dimezzare la luce che passa nell'obiettivo.